Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Fiocco Celeste A è sempre mezzogiorno, con annuncio in diretta sia da Instagram che dallo studio. Nella puntata di giovedì 15 febbraio 2024, infatti, Antonella Clerici non ha potuto non fare gli auguri al neopapà. Papà per la terza volta con l'arrivo di Francesco. E come dice sempre la conduttrice, è sempre mezzogiorno è una grande famiglia e non solo quando si cucina. Quindi un po' tutti i protagonisti del programma sanno cosa accade nella vita degli altri. Così anche il pubblico, che da giorni aspettava la bella notizia. La nascita del piccolo Francesco era attesissima e solo due giorni fa il neopapà era nella cucina del programma di Rayun per preparare le sue mezzelune di carne. È nato Francesco di quasi tre chili e mezzo, quindi un grande bambinone. Fabio Potenzano è uno dei cuochi che da anni è accanto ad Antonella Clerici nella cucina di È sempre mezzogiorno e poco fa sul suo Instagram. Dopo lo scatto con la moglie e gli altri due figli nel giorno di San Valentino, ha regalato la prima foto del piccolo. Grazie a tutti.